chiederei a Luca Morini account manager anche gli DDM di aggiungere qualcosa, grazie Luca grazie Claudia e grazie della linea che mi hai passato il mio compito oggi è esprimere una chiosa al termine di questo piccolo evento di aggiornamento per i partecipanti ma in generale anche per tutti noi sostanzialmente perché raccolgo di fatto un onore, sono molto lieto di questo perché Isabella lo citava prima, questo progetto è partito ormai nel 2007-2008 indicativamente e io ero in quel momento un fautore di questo progetto in partenza che si è consolidato nel tempo e che ha sicuramente avuto il merito di crescere costantemente per il grande merito di chi ovviamente lo ha preso come testimone della situazione preesistente e che ha curato sia l'evoluzione tecnologica ma anche quello che è più importante per quello che ho visto per quello che è stata la mia esperienza la creazione di man mano che la creazione di una comunità una vera e propria comunità coesa che potesse a questo punto godere di uno strumento ma anche di un modo di lavorare di condivisione di buone pratiche sia dal punto di vista della catalogazione sia dal punto di vista della condivisione dei servizi e di crescita per quanto riguarda la valorizzazione di questo grandissimo patrimonio che migliorerà sicuramente nel futuro lo diceva Claudia nel suo intervento iniziale come punto importante di arrivo per la creazione di un ecosistema culturale regionale che abbia anche la possibilità di interoperare con altri mondi molto importanti per quanto riguarda la nostra regione in questo momento che possono essere il turismo o altre situazioni dove la cultura può diventare veramente una parte integrante importante anche alla luce di quello che il PND e il PNRR in questo momento stanno esprimendo come volontà quello che vediamo oggi di fatto è l'introduzione di un importante step sempre dal punto di vista tecnologico ma che sarà propedeutico lo vediamo lo vediamo già fin d'ora a introdurre nuove possibilità di servizio che hanno quello hanno l'obiettivo che ci siamo detti poco fa cioè migliorare sempre e comunque quello che è l'accesso a questo eccellente lavoro verso il patrimonio culturale della regione magari insieme in maniera assolutamente organica agli altri patrimoni importanti che sono come delle biblioteche e degli archivi e questo è il settore del patrimonio culturale in questo momento sicuramente incarna questa possibilità direi che da un punto dei partner tecnici è una persona molto importante nel mio ambito e permettetemi un ricordo portando il saluto di tutto il team dei musei di DM Cultura di un che purtroppo ci ha lasciato prematuramente e che è stato il vero e proprio motore di questo progetto negli anni passati che è Raffaella Gattiani e che io saluto così dov'è mi sente effettivamente grande è stato anche il suo quindi volevo citarla ok si Luca ci associamo anche noi ci associamo anche noi a questo saluto e mi piace chiamarlo così perché credo che anche quello che stiamo facendo oggi sia la dimostrazione che non finisce cioè quello che creiamo insieme continua e quindi penso sia un bel modo di salutarla